C'è l'errore per Autodvg. Siamo adesso al completamento dei 400 metri con la squalifica dichiarata più volte per Autodvg 29.2. Il passaggio ai 400 metri è stato un errore di un turno con adesso l'attacco di Laurel di Poggio sollicitato soprattutto dalla risalita dalle retrovie di Matrix del Rio che va in terza coccina. 45.6 con al comando sempre Oscar poi in seconda posizione della corda Monzonfets all'esterno invece il numero 13 Laurel di Poggio quindi ancora Notian Gomiedo che è in terza posizione della corda con al lato Matrix del Rio 1.1.3 gli 800 metri e chilometro che Oscar Almar percorre sul piede del 1.15.9 con una frazione ancora importante cercando di tenere l'andatura sollecitare la battistrata per mettere in difficoltà Laurel di Poggio che viaggia al suo esterno anche Monzonfets è molto sollecitato poi fin dietro rimane ancora Matrix del Rio quando siamo a metà della piegata conclusiva. Posizione che per ora non mutano con anche Notian Gomiedo che potrebbe essere la partita ma deve trovare lo spazio per correre con l'invittura d'arrivo con Oscar Almar al comando nei confronti di Monzonfets quindi all'esterno sempre Laurel di Poggio Laurel che prova ad andare poi anche Matrix del Rio davanti Oscar Almar che si distende e nel finale Oscar Almar che viene a concludere su Matrix del Rio e Laurel di Poggio. Doppio quindi da alleatore, primo e secondo posto per Lucio Becchetti con Oscar Almar e Matrix del Rio, terzo posto per Laurel di Poggio, 2-2 scarsi, il tempo totale 1.16.2 la media al chilometro per la vittoria di Oscar Almar, figlio di Ganymede e Corinzi al mare. I colori sono quelli della New Deal che vedono il loro pupillo mantenere una lunghezza abbondante di vantaggio nel finale a quota di 4.11 il 5 al primo posto, il 9 al secondo e il 13 al terzo.